Eeee... è l'oro Eh, io l'oro, quante volte c'è un tantino Mi sopravvi che il bato è noto Come prego! Ma... Prego Aspetta, aspetta, no no no, aspetta, aspetta, è arrivato quel momento, è arrivato, è arrivato quel momento, aspetta, è notizio Eeeh, dove sta? Vabbè, non ci troviamo da queste cose, anche questo mio form, aspetta, tra poco io l'ho anche mio sull'ermadietto, quindi mi sono insati, iscriviti al mio canale, e a te adattamente l'ho anche l'ho anche l'ho Allora, come scrive, un MG578, acquido da Asus, due che ha passato con l'aspetta Eeeh, la stiera, anche Guido Piz, prova, la Reser Buon video però L'ho finito? Ce ne posso fare? Eeeh, un Mnardemon con sotto Giovanni che mette un mio video, cioè non posso farlo Ciao Shrek Ciao GG Ehi, comparto Manca una coin, manca, manca, sti gatti Anche al cazzo, quindi Vabbè, nel dubbio Vabbè, nel dubbio Facciamo così Vabbè, in più Vabbè, in più Vabbè Pervi Vabbè soccer Aspetta un club sapere la specione questa è la pink tzz per il carattere un gran giro eh esatto La strada si è ridita di pomodori Il pomodoro invade le fucili Si è friccustato Nelle credenze tra i bicchieri e le sediere azzurre E non ha una luce propria Mai sta benigna Affonda il video la tua nota La rossa di scena Suo fresco di fuori Si sposa leggermente con la chiara cipolla bravo l'era o dal pomodoro